Come parte conclusiva del percorso, la Fondazione Social Venture Giordano dell'Amore investirà in tre realtà e questo investimento servirà a supporto per consolidare queste realtà e per preparare la seconda fase dell'iniziativa Innova Musei. La prima iniziativa che abbiamo deciso di effettuare l'aumento di capitale è RMB for Culture per il progetto EMMA. Abbiamo deciso di premiare questa iniziativa per la forte scalabilità del progetto. Il secondo investimento è stato effettuato in URSRL per 70.000 euro per il progetto Erarium Chain e la Fondazione ha deciso di premiare gli aspetti legati all'innovazione tecnologica sviluppati da questa realtà. Il terzo investimento è stato assegnato alla Cooperativa Sociale Alchemilla per il progetto Artù e la Fondazione ha voluto investire in questa realtà per il forte impatto generato e l'inclusione sociale e l'avvicinamento di questa realtà a quelli che sono i temi di avvicinare i bambini all'ambito museale.